Ciao a tutti, videoblog numero 34, giorno 34, comunque siamo in Etiopia, siamo in Etiopia, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta finalmente, siamo a, non lo sappiamo dove siamo, al Gonder, abbiamo fatto 274 km oggi, non abbiamo avuto nessun problema a Indogana, abbiamo trasfilato ricissimo, due ore, tutto lì, c'è solda, abbiamo pagato per uscire, Etiopia non l'abbiamo neanche pagato per entrare, non l'abbiamo visto, ci sono state lì neanche un'oretta, ci ha fatto passare, è stata proprio vacilace, qui è un altro mondo, come potete vedere, fa freddo finalmente, potremmo iniziare a dormire, ai 60 gradi di ieri, stasera ce ne saranno 15 forse, sì, basta, il problema è, no, però non c'è assolutamente problemi, non c'è stai problemi, è cambiato totalmente il paesaggio, è andato tutto montuoso, sali e scendi, sali e scendi, è una cosa impressionante, però la gente, la gente è diversa, la gente è sia cattiva, sia buona, tutti i posti, vabbiamo fatto gente un po' che stava addosso, un po' gente un po' che stava addosso, però noi gli schiacciamo, se ci dava fosse gli schiacciamo, e come? e un'altra cosa, niente da dire, ora domani mattina appunto ci camminiamo, costeggeremo il lago, il lago Fana, un lago famosissimo, dove appunto sorge il lino blu, sono anche le cascate, ci sono, quindi deve essere, si era molto carino, e poi andiamo nel sabino, nel sabino, e poi rispondiamo, e poi sopra, e poi sopra, adesso pian piano facciamo un punto, sì, senza furia ce la facciamo fare, adesso ci stai ricommendo il nostro ammir, un nuovo mio, ecco qui, lui è il nostro ammir,